Siete pronti? Sotto le coperte e mettetevi comodi sul vostro cuscino. Io sono Alice e questo è Fila Ananna, la tua storia per la buonanotte. Ti voglio bene terra! Buonasera bambini, sono Luciana Ciliento e mi occupo di ecologia da qualche anno ormai, da quando ho cominciato a scrivere primo un libro per adulti e poi un libro per bambini. E ricercando le storie che avrei voluto inserire insieme a Carola Benedetto, la mia coautrice, dentro i nostri libri, mi sono accorta che c'era tantissima gente che si occupava del pianeta, che se ne prendeva cura a tutti i livelli, di tutti i lavori, di tutta l'età. E fra questi ho incontrato la storia di Greta Thunberg, questa ragazza che giovanissima, un giorno invece di andare a scuola, decide di scioperare per salvare il pianeta, perché prima e anche meglio di molti adulti si rende conto che le azioni di tutti sono importanti e fondamentali per la salvaguardia e la salvezza del nostro pianeta, che è un pianeta bellissimo ma molto sfruttato, molto inquinato, che ha bisogno di essere guardato negli occhi e curato. E quindi ecco a voi, porgo, la storia di Greta Thunberg e vi dico come lei non si è mai troppo piccoli per fare qualcosa di buono per salvare il nostro pianeta. E quindi ora vi lascio alla lettura della fiaba. Quella che sto per raccontarvi non è una fiaba, ma una storia vera che parla di una bambina coraggiosa. Piccola storia di Greta Thunberg, di Carola Benedetto e Luciana Ciliento. Greta, spegni la luce quando esci dalla stanza, dice mamma Malena. Perché? Non abbiamo i soldi per la bolletta, risponde la bimba. Ma no Greta, te lo dico perché non bisogna sprecare l'energia. Lo sai che per produrla si usano risorse non rinnovabili come il petrolio e il carbone e queste causano l'aumento dei gas serra. E che cosa fanno i gas serra? incalza Greta, incuriosita. Vieni qua, dice Malena. Da un cassetto del mobile estrae la foto di un elegante signore con due baffoni e gliela mostra. È il prozio Svante, esclama Greta con un sorriso. Quel viso serio e paffuto le ha sempre fatto simpatia. Che cosa c'entra lui con i gas? La mamma le racconta che Svante Arrenius è stato il primo scienziato, all'inizio del secolo scorso, a mettere in relazione l'incremento delle emissioni di gas serra con l'aumento della temperatura terrestre. Poi, precisa, bruciando combustibili fossili si immettono nell'atmosfera terrestre grandi quantità di gas serra. Questi trattengono i raggi del sole e fanno alzare la temperatura del pianeta. È il fenomeno del surriscaldamento globale. Quel pomeriggio, Greta, che ha solo sei anni, inizia a capirci qualcosa. Ma al contempo, in casa Thunberg, finisce la pace. Ad ogni occasione piovono domande, soprattutto su papà, Svante, che porta lo stesso nome dell'antenato scienziato. Intanto, la foto del prozio torneggia in camera della bambina, sopra il letto, come se potesse rispondere anche lui. Con tutto quello che legge, a otto anni, Greta ha già le idee chiare su come il clima del pianeta stia cambiando. Quando la maestra annuncia che in classe vedranno un documentario sull'argomento, la bimba si prepara a prestare la massima attenzione. La voce narrante spiega che c'è plastica ovunque, sulla terra e nell'acqua, perfino negli stomaci degli animali, che la ingiriscono scambiandola per cibo. A causa dell'inalzamento delle temperature, inoltre, aumentano le zone di siccità e si riducono i ghiacciai. Per ultime, scorrono le immagini di un orso polare smagrito e affamato, che si aggira fra un iceberg e l'altro. Sono le persone con le loro azioni a determinare i cambiamenti climatici, commenta la maestra, e a Greta si stringe la gola. Ma com'è possibile fare del male a qualcuno consapevolmente? Si domanda angosciata, mentre le lacrime iniziano a rigarle le guance. E' molto turbata. Finito il documentario, mentre i compagni escono a fare l'intervallo, lei resta immobile. Non può più andare a giocare, non può più fare niente. A casa, si siede sul divano in silenzio. Pensa agli orsi, alla plastica che galleggia dappertutto, agli uomini che fanno del male e non corrono ai ripari, ed è davvero sconfortata. Il papà fatica a farsi raccontare cos'è accaduto e Greta gli spiega che ha paura della capacità delle persone di distruggere il mondo. Svante cerca di consolarla e le promette che per cominciare non useranno più plastica. Sollevata solo in parte, la piccola si immerge di nuovo in dati, numeri e statistiche sul clima. Cerca delle soluzioni, ma più si informa, più diventa triste. Se il periodo è buio per i Thunberg, per Greta è apocalittico. Pensieri di distruzione le girano in testa e le impediscono di vivere come un undicenne qualunque. In soli due mesi perde dieci chili e non parla quasi più, se non con chi conosce molto bene. È mutismo selettivo. Greta sceglie con chi parlare perché per lei è estremamente difficile comunicare. Il dolore che Greta ha provato per ciò che ha scoperto sui cambiamenti climatici è sempre presente. Per tre anni non va più a scuola. Passa il tempo studiando e ripetendo a memoria numeri e statistiche sulle emissioni di CO2. I Thunberg passano presto dal consolarla ad accogliere le sue proposte. Per inquinare meno, la mamma, che fa la cantante e viaggia molto, smette di prendere l'aereo e accetta di esibirsi solo in posti raggiungibili in treno. In città comincia a muoversi in bicicletta. Papà svante compra una macchina elettrica, diventa vegetariano come Greta e coltiva un piccolo orto fuori città. Queste azioni placano in parte l'angoscia della piccola che pensa se ce la fanno i miei genitori. Anche le altre persone possono cambiare. E finalmente, a 14 anni, accetta di tornare a scuola. Un pomeriggio la bambina legge su internet che alcuni ragazzi americani si rifiutano di entrare in classe per fermare il commercio di armi. Uno sciopero! Ecco come riuscirò a far capire a tutti che se non ci mobilitiamo il surriscaldamento globale ci ucciderà! Annuncia ai genitori e affonda il viso nel pelo morbido del suo cane Moses. Greta ora sa cosa fare. Il 20 agosto 2018, dopo colazione, raccoglie i capelli castani in due trecce perfette, come piace a lei. Indossa la felpa blu e la camicia a quadretti preferite e scende nel garage. Prepara un cartello di legno su cui scrive in svedese «Sciopero della scuola per il clima». Al cuore che batte forte perché sta per mostrare a tutti il frutto del lavoro di anni. Raggiunge il Parlamento in bici e si siede per terra con il cartello sulle ginocchia. Greta ha deciso che sciopererà fino a quando si terranno le nuove elezioni. Il primo giorno è sola. Il secondo giorno alcuni ragazzi si fermano incuriositi e già dal terzo davanti al palazzo si forma un piccolo gruppo pacifico. Dal sesto la protesta è sui social e in tutto il mondo. E si sparge nelle altre città svedese. Quando arriva il giorno delle elezioni, Greta raggiunge il suo primo obiettivo. Nel Parlamento svedese si parla di cambiamenti climatici. L'8 settembre 2018 si tiene in tutto il mondo la marcia per il clima e gli organizzatori di Stoccolma chiedono a Greta di condividere la sua esperienza parlando alla folla. Svante e Malena temono che non regga la tensione di parlare davanti a tanti sconosciuti. Devo farlo mamma. Il mio piccolo problema non è niente in confronto a quello che succederà se le persone non capiscono che la nostra casa, la terra, è in fiamme. Questo è il momento di agire, risponde Greta fissandoli negli occhi. Questo è tutto vero. Io non dovrei essere qui. Io dovrei essere qui. Io dovrei essere in scuola, sull'altra parte dell'oceano. Ma tutti vengono a noi, le persone, per la speranza. Ma che vorrei. Tu hai scopo i miei sogni e la mia figlia con i vostri spettatori. Ma io sono uno dei lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Il suo discorso asciutto, duro e preciso lascia tutti ammutoliti. La platea la ascolta in silenzio e lei annuncia anche che finché la Svezia non azzererà le emissioni di anidride carbonica, continuerà a scioperare davanti al Parlamento ogni venerdì. Nascono così i Fridays for Future, che in un baleno si spargono ovunque. Greta continua a scioperare in Svezia e appena può attraversare l'Europa in treno o con la macchina elettrica, accompagnata dal papà, per incontrare i potenti. Vuole spingerli all'azione. E in pochi mesi l'energia contagiosa di Greta si propaga e le città in cui si sciopera ogni venerdì sono quasi 300. Voglio che siate presi dal panico, che vi comportiate come se fossimo nel mezzo di una crisi terribile. La nostra casa è in fiamme, il pianeta Terra va a fuoco insieme al futuro dei giovani. Il messaggio raggiunge perfino all'Australia, dove numerosi studenti iniziano a scioperare. Il primo ministro ordina i ragazzi di tornare a scuola, altrimenti saranno puniti. Greta ribatte via Twitter. Mi dispiace, ministro, questa volta non possiamo obbedire. A febbraio Greta è a Bruxelles, a parlare davanti al Comitato Economico e Europeo. Voi sostenete che saremo noi giovani a salvare il mondo? Non è così. Noi non ne avremo il tempo. Non parlate con noi, visto che non volete, ma ascoltate gli scienziati che da decenni vi dicono cosa fare per risolvere il problema del suo riscaldamento globale. Poi esce e si unisce alla Marcia per il Clima organizzata in città. I suoi sforzi iniziano a dare frutti straordinari. Il 15 marzo 2019, inoltre 2.000 città e 125 nazioni in tutto il mondo, si tiene il Global Strike for the Future. Un milione e mezzo di studenti marciano pacificamente per difendere il pianeta, dando vita alla più grande azione globale per il clima mai vista. Sono orgoglioso di te, le dice il papà, e lo sarebbe anche il prozio Svante. Hai cambiato la nostra vita e ora sei di ispirazione per un'intera generazione. Non devi smettere. Greta lo abbraccia. Non ne ho nessuna intenzione, papà. Aiutami a preparare un nuovo cartello. Se a volte pensi che essendo un ballista, bambino difendere il pianeta sia un compito troppo grande. Ricordati la storia di Greta e le sue parole. Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Se ti è piaciuta questa fiaba puoi aiutarci a far conoscere questo podcast anche ai tuoi amici. C'è qualche fiaba che ti piacerebbe sentire? Scrivici nei commenti le tue proposte. Ma adesso è il momento di salutarci. Chiudi gli occhi, rilassati, abbraccia il tuo cuscino e fai un bel respiro profondo. Buonanotte. Grazie. 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 Grazie.